Presidente, siamo in piena estate quindi scrivono anche molti turisti. Gino di Milano per esempio ci chiede la costiera amalfitana è tra i fiori alle occhielli della campagna. A Milano la conoscono più di ogni altro luogo turistico ma vedo che non si fa molto per salvaguardarla. C'è il rischio che anche la costiera cada in abbandono? Presidente, chiede Gino. Beh, mi sento di dire che la preoccupazione di Gino c'è sempre per chi ama il proprio territorio ma mi sembra che alcune nostre perle come... cito solo la penisola e la costiera ma per non far torta le tantissime altre perle che teniamo quindi dovrei citarne troppe e dimenticare qualcuno quindi mi riferisco solo a quella che Gino diceva. No, no, la costiera è mantenuta benissimo le amministrazioni comunali lavorano, c'è un turismo straordinario. Evidente, gli investimenti servono sempre quindi è meglio sempre aumentare la sicurezza e l'arredo urbano però ecco, una delle nostre realtà territoriali che sicuramente è quella che dal punto di vista ambientale è quella che diciamo è uno dei territori che è più curato. A proposito di turismo, ecco c'è una turista, credo che venga dalla Sardegna che voglia porre una domanda al Presidente. Prego. Presidente, io vengo dalla Sardegna e sono qua a Napoli in vacanza e sinceramente non ho trovato questa brutta nomea, cioè non l'ho trovata male come si dice come mai ha questa brutta fama Napoli? Intanto me lo chiedo pure io, nel senso che una delle domande che mi faccio spesso è di chi è la colpa? Beh, diciamo un po' tutta nostra Napoli, il nostro territorio è straordinario quando vengono i turisti qua, spesso mi fanno la domanda ma sì, sappiamo dei problemi, li conosciamo ma quelli che leggiamo sui giornali o che vediamo in televisione sembrano molto più grandi ingigantiti e quindi quando vengono qua non dico che si meravigliano però dicono, beh, ma insomma non è la situazione non è come è stata descritta ed è vero, noi dovremmo riuscire ad essere molto più noi un richiamo che faccio a 360 gradi un po' anche alla nostra comunicazione alla carta stampata cittadina alle televisioni locali di descriverle tante cose belle della nostra regione e di guardarle nella giusta dimensione perché le domande che ci vengono dai cittadini che spesso incontro sono incontrati anche ultimamente che stavano qui e passeggiavano per la città venivano, tra l'altro alcuni erano stranieri alcuni chiaramente vengono da altre parti d'Italia e beh, certo, il problema dei rifiuti il problema della sicurezza sono problemi che ci sono però la loro prima domanda è dire ma è così bella? certo, si può migliorare è sempre uno stimolo non dobbiamo dimenticare ci accontentiamo di quello che abbiamo no, i problemi vanno risolti a partire dai problemi dei rifiuti però dobbiamo anche avere un po' più di orgoglio e difendere le cose belle che abbiamo e guardare i problemi anche nella giusta dimensione quindi sono perfettamente d'accordo e sono felice del fatto che tantissimi turisti e sono tanti che continuano a venire sul nostro territorio e molti di loro si fanno questa domanda siamo venuti qui ed è una città è un territorio straordinariamente bello e quindi anche i problemi non sono come quelli che vengono rappresentati risolviamoli ma difendiamo il nostro turismo difendiamo chiaramente il nostro territorio Presidente, lei ha fatto anche riferimento ai rifiuti, all'emergenza rifiuti Giovanni Nassi chiede se utilizzando i fondi europei non sarebbe il caso di varare progetti riguardanti l'energia geotermica quindi aprire nuove frontiere il tema dell'energia è il tema del futuro i cittadini hanno deciso di abbandonare europei ormai l'abbandono è in molti paesi europei vediamo la Germania che era uno dei grandi paesi europei che aveva puntato sul nucleare la stessa cosa la Francia mano a mano scelgono la strada perché è un obiettivo mondiale ed europeo di lavorare sulle fonti quelle che vengono più comunemente definite alternative meno inquinanti il geotermico, il solare, l'eolico sono tante le possibilità quindi noi nel piano regionale ed è un piano che varieremo in tempi rapidissimi in consiglio regionale c'è già la discussione di merito su una proposta del consiglio dobbiamo discutere e lavorare sul geotermico sulla geotermia noi abbiamo un territorio che si presta a questo tipo di utilizzo dell'energia di questo tipo di energia però avendo abbandonato la strada del nucleare e allora siamo obbligati a correre molto di più sulle varie possibilità le varie fonti di energia alternativa e mi sento di poter rispondere affermativamente a quello che hanno richiesto il nostro il nostro cittadino ascoltatore che ha fatto la domanda sicuramente il geotermico deve essere una delle opzioni centrali del piano energetico regionale il gesuita padre Carlo Sorbi chiede un punto sulla costruzione dei nuovi termovalorizzatori quali sono gli impegni dei commissari ad acta su questo fronte noi siamo partiti con le gare è una delle cose che abbiamo fatto subito il ciclo dei rifiuti per ricordarlo a noi e a voi parte dalla differenziata che è un grandissimo obiettivo e quindi più alta è la differenziata più abbiamo rifiuti e li abbiamo selezionati quindi questo aiuta tutto il resto le discariche meno possibili ma ci devono essere come in tutta Italia gli impianti intermedi di trattamento dei rifiuti quelli che noi comunemente chiamiamo stir ma ci sono evoluzioni e poi tutta l'Europa non esiste un impianto finale ad oggi che non sia il termovalorizzatore forse in futuro si utilizzeranno nuovi impianti però oggi questo è l'impianto che c'è in Europa e anche in Italia e anche la Campania ha già a Cerra deve realizzare almeno quello che ci dice l'Europa almeno altri due termovalorizzatori quindi uno è in procedura di aggiudicazione nel Salernitano a Salerno e l'altro è partito e quindi anche in questo ci saranno a breve anche l'aggiudicazione del termovalorizzatore di Napoli Est poi è noto a tutti che abbiamo un ricorso un ricorso dell'amministrazione comunale di Napoli e della società Asia contro la realizzazione del termovalorizzatore su questo discuteremo non voglio avere posizioni ideologiche ma ho chiesto al Comune ho detto al Comune quali sono le soluzioni alternative l'unica cosa che non possiamo fare è non rispondere ai problemi e poi è successo come è successo in questi ultimi 20 anni e noi abbiamo i rifiuti per strada perché non abbiamo dato risposte strutturali oggi la risposta strutturale è questo ciclo che va dalla differenziata fino al termovalorizzatore è l'unico sistema europeo condiviso e su questo dobbiamo ragionare senza posizioni ideologiche con le aperture necessarie nessuno vuole imporre nulla però discutiamo nel merito e nel merito poi alla fine come sempre ci troveremo d'accordo Presidente velocemente perché mancano pochissimi minuti Luca da Torre del Greco chiede se in Campania ci sarà un nuovo condono edilizio il condono edilizio non lo decide la regione Campania ma sono posizioni nazionali quindi sono decisioni che prende il governo nazionale non lo prende la regione Campania noi abbiamo un problema e l'abbiamo chiesto al governo e c'è un impegno del Presidente del Consiglio quello di poter decidere di adottare l'ultimo condono che è stato fatto in tutta Italia e che non ha fatto la regione Campania perché la regione Campania decise di non applicare il condono sul proprio territorio al contrario di tutte le regioni italiane quindi c'è una disparità di trattamento è intervenuta la Corte Costituzionale ha detto che la Campania aveva torto che bisognava garantire ai cittadini la possibilità di utilizzare quel condono così come è avvenuto in tutta Italia quindi noi aspettiamo dal governo una norma una norma che ci dica che anche la Campania può riaprire i termini del vecchio condono evidente noi parliamo di quegli anni lì e di quelle condizioni poste dal condono per intanto rispondere alla sentenza della Corte la Corte Costituzionale quando si dice ha ragione bene in questo caso dobbiamo rispondere ma lo deve fare il governo poi noi saremo pronti ad applicarlo in particolare affidando ai comuni la valutazione delle domande di condono Presidente ultimi due flash Ubi di Napoli le chiede in questo anno e mezzo quasi di governo cosa non rifarebbe o cosa farebbe in modo diverso? Ma io rifarei tutto dal punto di vista delle grandi scelte poi è chiaro che quando si amministra c'è sempre da migliorare l'esperienza conta quindi nessuno ha la verità in tasca però abbiamo fatto un lavoro straordinario ci viene riconosciuto da tutti ci viene riconosciuto a livello europeo dalle grandi società di valutazione nella crisi generale è evidente che oggi ai cittadini europei si chiedono sacrifici quindi non è solamente da noi nel sud o in campagna da noi diventano più dolorosi i sacrifici però nell'ambito di questi sacrifici la regione ha fatto degli straordinari passi avanti rispetto all'eredità che ha ricevuto e forse una cosa che forse rifarei farei dall'inizio è quella di fare di avere questo contatto diretto quindi di solo dopo un anno apriamo questo nostro confronto in diretta con i cittadini e quindi ampliamo tutti gli spazi di confronto e di dialogo di farlo in maniera sempre più continua e quindi questo è un impegno forse i primi mesi di emergenza con i tanti problemi che avevamo non ci permetteva di avere anche un po' la serenità di discutere con voi in diretta però ecco forse una delle cose che dobbiamo far meglio è proprio continuare a discutere con voi avendo da voi un contributo continuo e propositivo come state facendo sempre con queste domande che entrano nel merito dei problemi della nostra regione perfetto il tempo è scaduto e ringraziamo il presidente per le risposte date ai cittadini che hanno voluto porre delle questioni a Grazie a tutti.